Siamo con Mattia Bani al termine di Modena Provercelli 1-0, dispiace penso tanto il risultato perché la Provercelli ha saputo tenere lo 0-0 fino a pochi minuti dalla fine si è vista anche un po' forse la stessa partita che era successa col Pescara per certi versi, anche quella col Bari perché poi alla prima occasione il Modena ha segnato e ha di fatto vinto la partita Sì, sicuramente siamo dispiaciuti perché secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo anche dal punto di vista dello sviluppo, nel secondo tempo magari siamo venuti un po' meno però era importante non prendere il gol e purtroppo abbiamo fatto questo errore e basta, chiudiamo questa partita e andremo alla prossima a affrontare il Como per vincere Anche perché vi aspetta un altro scontro diretto, questo era uno, è andato, lo lasciamo alle spalle, però ovviamente davanti c'è il Como, ci sarà la Salernitana, tanti impegni molto importanti Sì, sicuramente, però pensiamo adesso soltanto al Como, cominciamo già a lavorarci in settimana perché è una partita, sappiamo tutti, importante, non fondamentale ma in casa dove dobbiamo costruire più punti possibili per la nostra salvezza e già da sabato Hai avuto anche una mezza occasione nel secondo tempo prima che segnasse il Modena, sviluppi di calcio d'angolo, l'hai spizzata e forse non è arrivato Scavone per il tapine, è il contrario forse Ci sono arrivato in tempo, è un peccato perché poi fossimo andati in vantaggio magari sarebbe stato tutto più facile Poi purtroppo, come ho detto prima, è andata così e dobbiamo pensare già il Como io Il K No 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 Sì, sì, sì!